Allora, siamo a Praia d'Oura, in Portogallo, per le nostre vacanze estive. Oggi, con questo video, vi farò la presentazione dei personaggi, degli attori principali di questa vacanza in Portogallo. Inizieremo da sinistra verso destra. Con il primo è... Il secondo è... Il terzo è... Il quarto... Via, via! Ehi, il mio obbligo, mettermi questo nelle mutande. Eccoli, cosa faranno? Pronti? Via! Hanno devastato quattro turiste inglesi che stavano a mare per i cazzi di loro. Eccoli! A proposito, io mi chiamo Luca Cerino ed ho giocato anch'io nella Francia e nella Tornado Blu. Grazie. Grazie.